ho fatto solo a pranzo poi siamo tornati me la so goduta un pochino perché comunque la domenica è sempre bella passarla in famiglia stare bene tranquilli senza cellulare senza troppe robe però cazzo ti voglio dire una cosa perché ci tengo a dirla e so che voi mi ascoltate stavo a suonare a casa il mio amico siamo divertiti da morire però erano tutti amici della vita non c'è bisogno postare e fa tante cose no poi dopo sono andato a una festa paesana che un mio amico aveva organizzato e io ho fatto da quella per io volevo rivederlo per cortesia perché comunque è un amico io ci tengo tantissimo un'amicizia quindi vado lì e tutti i ragazzi che erano lì sono diventati pazzi dico madonna cavolo veramente sono pazzi per me perché l'ho capito il perché perché l'ho capito perché basta essere umili basta guarda mi sono arrivato col costume erano un pazzi c'era un ragazzino che stravedeva per me allora l'ho preso e l'ho portato con me sul palco e è stato super felice queste sono le cose che cioè voglio trasmettere io non è che io prendo il ragazzino sul palco e vi dico che so bravo no da qua dovete capire comunque se fate un piccolo gesto cioè significa tanto sicuramente quel ragazzino vi ha svoltato la serata era super felice è questo che bisogna ricercare non tutte le pugnettate tutte le cazzate che se vedono in giro no cerchiamo poi gesti semplici e umili di far felice la gente e le persone che a cui volete bene poi il resto viene da sé quello che piace trasmettere a me su instagram è questo poi vi ripeto sono la prima pietra dello scandalo perché le cazzate le faccio anch'io però cerco cerco sempre di far sta bene le persone e questo me la tanto se no non sarei arrivato fino a qua che può essere un traguardo piccolo grande dipende da come lo guardi comunque ci so e tante persone guardano e tante persone vogliono bene quindi questo è quello che conta e io lo voglio bene ragazzi adesso basta non voglio star rompere il cazzo buonanotte a tutti godetevi stanotte d'estate e io lo voglio bene bacino